È un accordo senza alternative. La Pop Bari del presidente Marco Iacobini chiede e avrà la governance della Cassa di Risparmio di Teramo, commissariata dalla Banca Centrale nel maggio del 2012, garantendo un intervento di ricapitalizzazione fino a 200 milioni di euro. Il resto della consistente cifra, di 300 milioni di euro, sarà fornito dal Fondo di Garanzia, che si impegna a coprire le perdite patrimoniali, e dalle fondazioni bancarie abruzzesi, che vogliono restare nella partita, anche se il loro ruolo si è drasticamente ridimensionato. Banca Italia, ieri pomeriggio, ha ratificato l'accordo popolare di Bari, autorizzando il salvataggio della Tercas. I giochi a questo punto sono fatti e tutto si è consumato in tempi da record, tre step in appena tre giorni. Lunedì c'è stato il sì del Comitato Esecutivo del Fondo di Garanzia, il cui CDA ha dato l'ok appena 24 ore dopo. Ieri pomeriggio, infine, è arrivata la ratifica della Banca di Via Nazionale, e alla luce degli ultimi e vorticosi sviluppi, il presidente della fondazione Tercas, Mario Nuzio, ha convocato per oggi pomeriggio il consiglio di indirizzo della stessa fondazione, che detiene il 68% di Tercas, cui seguirà immediatamente dopo il CDA. Ma i due organismi non potranno fare altro che prendere atto della decisione della Banca d'Italia. Si prevedono inoltre tempi velocissimi per il salvataggio della Cassa di Corso San Giorgio, sotto la propulsione di Banca Italia, rappresentata a Teramo dal commissario Riccardo Sora, che stando a una serie di indiscrezioni che ormai traperano dagli ambienti bancari teramani, sta per convocare l'Assemblea dei Soci Tercas per l'approvazione definitiva della ricapitalizzazione, in cui il ruolo delle fondazioni, fino a pochi giorni fa di consistente impatto, si riduce ad un apporto minoritario.